È un primo passo, un primo piccolo passo, ma vogliamo dare un segnale, c'è tanta gente che ha un lavoro ma chiede un po' di dignità e noi questa dignità gliela possiamo dare con le leggi, gliela possiamo dare con una paga minima oraria, ma soprattutto la possiamo dare favorendo il confronto tra grandi gruppi internazionali e magari ragazzi di 20 anni o 30 anni che lavorano ogni giorno e che chiedono diritti minimi, non stanno chiedendo neanche la luna. Grazie a tutti.